Oggi a Catania fa tappa il tour dell'UGL organizzato in occasione del 74esimo anniversario della Confederazione. Hashtag lavoro e partecipazione e l'hashtag di riferimento dell'iniziativa nazionale è partito da Roma e girerà l'Italia fino al 25 marzo prossimo. A Catania il polno dell'UGL arriverà oggi pomeriggio alle 16 e rimarrà fino alle ore 19 in piazza Università. Sarà presente il segretario generale Paolo Capone insieme al segretario territoriale di UGL Catania Giovanni Musumeci e alla classe dirigente dei segretari UTL delle Unioni Territoriali del Lavoro di tutta la Sicilia. Sarà l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di dare attuazione legislativa all'articolo 46 della Costituzione sul tema della collaborazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa.